Aggiornamenti e riflessioni sulle nuove frontiere della formazione, sulle nuove metodologie a disposizione di chi forma e sulla creazione di spazi adeguati nella settimana pedagogica salentina, evento unico nel suo genere voluto dall'Università del Salento e dalla Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa e patrocinato da enti locali e ordini professionali. Sarà declinato in tre appuntamenti di spessore che porteranno tra Lecce e Monteroni i nomi più interessanti della pedagogia nel panorama internazionale. A dare in là un workshop destinato ai docenti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto sulla rivoluzione copernicana promossa dal metodo del cosiddetto apprendimento cooperativo a condurlo dalla Niagara University negli Stati Uniti, i massimi esperti del settore. Si tratta di due fattori, il primo il fatto che gli studenti lavorino insieme, creino insieme un progetto, collaborino. Il secondo invece è un elenco di otto fattori che deve tenere in mente l'insegnante. Queste due cose abbinate sono potentissime. Una pedagogia che ha abbandonato la lezione frontale e l'apprendimento individuale, che fa largo uso degli strumenti dell'era digitale, necessita di luoghi consoni e di soluzioni innovative nel progettarli. Superare il vecchio concetto di aula nell'edilizia scolastica è il punto cardine, peraltro, delle nuove linee guida ministeriali. Su questo ci si confronterà a Monteroni nel convegno internazionale in programma al Palazzo Baronale e in quella sede si lancerà una proposta. A realizzare un master per formare il consulente pedagogico nella progettazione degli spazi educativi. A fine settimana, la tre giorni di Summer School della Siref, a cui parteciperanno 70 tradottorandi e ricercatori di area pedagogica da tutti gli atenei del paese, chiuderà questi stati generali della scienza della formazione nel Salento.